Bene, buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma ero all'università a un evento che doveva finire a luna e da bravi accademici l'evento è finito a luna e mezza, un quarto alle due, quindi poi è tempo di arrivare qua dal campus in Audi, col 15 c'è voluto il tempo che c'è voluto, forse a piedi facevo prima o ci mettevo lo stesso tempo, non lo so, vabbè, niente, scusate per questo 5 minuti di ritardo ma tanto qui c'è il professore di matematica che sta fino all'ultimissimo secondo quindi non avremmo iniziato molto prima. Allora, continuiamo a parlare di Flask, l'altra volta avevamo gli ultimi 10 minuti alle 6 e mezza, avevamo parlato dell'ereditarietà di template, fatemelo riprendere brevemente perché erano le 6 e mezza, 20 alle 7 di sera, qualcuno ha detto buona giornata uscendo dall'aula, quindi magari ha senso riprenderlo velocemente ma riprenderlo. Jet lag, sì, sì, può essere qualunque roba. Allora, dicevamo l'altra volta che una delle cose che possiamo usare in Flask sono appunto i template che avete anche sperimentato nel laboratorio di mercoledì e questi template possono essere ereditati, quindi dato che ci sono alcuni elementi nei template che sono duplicati, per forza perché se avete tre pagine HTML lasciamo perdere gli esempi semplici che abbiamo visto l'altra volta, ma pensate a un sito pubblico online in cui c'è l'intestazione, l'intestazione sarà uguale o molto simile in tutte le pagine, il footer sarà simile in tutte le pagine, la struttura stessa della pagina, che avrà magari una barra laterale, una parte centrale, sarà di nuovo simile o addirittura identica in tutte le pagine. Attualmente per quello che abbiamo visto finora, escludendo questi ultimi dieci minuti della lezione scorsa, e quello che dobbiamo fare è fare copy-in-colla tra le varie pagine di tutti gli elementi HTML, incluso il tag HTML. Tutte le pagine le facciamo iniziare col tag HTML, col led, eccetera, quindi tutte le pagine importano lo stesso CSS, importano Bootstrap identicamente su tutte le pagine. Ora, se avete una pagina non è un problema, ovviamente, se ne avete due forse neanche, se ne avete 50, inizia a essere un lavoro molto manuale, ed essendo un lavoro molto manuale, è anche un lavoro che è prone ad errori, perché a furia di fare copy-in-colla, a un certo punto, può essere che il link dovevate cambiare qual era il bottone attivo in una pagina nella navigazione, da home a chi siamo, e a furia di fare copy-in-colla, questo rimane sempre home, anche se siete in una pagina diversa. E quella è una cosa, accorgersi, tornare indietro, sistemare, eccetera. E inoltre, se la pagina è molto grande, tutte queste parti comuni, ovviamente, continuano a rimanere presenti nella pagina. Allora, Jinja, come quasi tutti i template engine, hanno la possibilità di definire dei template e vengono editati, e quindi di avere template padri, template figli, ripetuti, quindi un template padre, un template figlio, e il template figlio, a sua volta, può essere padre per un altro template, e così via. E in questo caso, e nel caso di Flask, questa ereditarietà del template non richiede nessun cambiamento nel file Python che stavamo scrivendo, ma solo un cambiamento nei file, appunto, dei template. Dicevamo un'altra volta che i due tag principali per far funzionare l'editarietà sono block ed extend, dove extend permette, appunto, di estendere un template già esistente, quindi io potrei avere un template base che definisce la struttura del sito o della pagina, e poi i vari figli possono estendere quel template per andare a aggiungere i pezzi particolari, personalizzati, laddove servono, e mantenere le parti comuni identiche. Queste parti personalizzate sono i blocchi, che prendono un nome, quindi che si scrivono in questo modo, prendono un nome che deve essere unico all'interno del template. E qui c'è un esempio, se ricordate l'esempio che abbiamo fatto la volta scorsa, un esempio di un template di base, in cui è possibile estrarre il... l'altra volta avevamo delle pagine col titolo che era composto da IAV meno il nome della pagina, home about, e poi avevamo un body che cambiava nelle pagine, perché nella home c'era un'immagine, un testo, eccetera, nell'altra pagina c'era solo del testo con l'elenco dei docenti del corso. Quindi quelle erano le parti che cambiavano, tutte le altre parti rimanevano identiche, e allora in un template di base, se immaginiamo di avere quelle due pagine o molteplici altre pagine, uno potrebbe avere un blocco di titolo, in cui la parte iniziale rimane la stessa e noi andiamo a cambiare quello che succede dopo, nel led, e un blocco di contenuto, e a questo punto nei nostri template figlio, nei nostri template che estendono questo, avremo solo il contenuto nuovo, il contenuto personalizzato, che andrà a inserirsi all'interno del body. Quindi i figli diranno il pezzettino del titolo che manca e qual è il contenuto del body. E ci penserà Flask, ci penserà Ginger in questo caso, a fare il merge dei vari template per produrre la pagina HTML che sarà servita alla server, alla browser. Questo lo farebbe in ogni caso. E questi sono i due template figli dell'altra volta, in cui quindi la prima riga deve essere l'extend. Il potere della tecnologia. La prima riga deve essere l'extend. Cioè un template figlio deve iniziare con, estendo il padre, non può essere messo in un'altra posizione questo extend, e poi ci sono gli eventuali blocchi da personalizzare. Quindi in questo caso il blocco del titolo e il blocco del contenuto. A questo punto questo è il nuovo file index.html che conterrà principalmente solo il contenuto della pagina e il layout, la struttura della pagina, è lasciata in questo caso interamente al base layout. E stessa cosa per l'altro. Estende il template di base, definisce il titolo e poi inserisce il contenuto. Ovviamente se noi avessimo un contenuto più strutturato, per esempio con la colonna a destra e con la colonna a sinistra, noi potremmo avere invece di un unico blocco che contiene tutto il body, potremmo avere un blocco per la colonna di sinistra e un blocco per la colonna di destra. E andare a riempire quei due blocchi al bisogno nei template figli. Questo aveva solo un'unica colonna perché non aveva stile, non aveva niente, quindi ovviamente quel bisogno non c'era. Quello fa parte della progettazione, in un certo senso, della pagina. Sta allo sviluppatore capire se è meglio avere un blocco unico di contenuto per l'intero body oppure blocchi più piccoli. Ma la regola generale è che un blocco potrebbe essere l'aria che voi volete andare a riempire, che potrebbe cambiare. Quindi se avete tre colonne, ogni colonna potrebbe essere un blocco, per esempio. E nulla vieta all'interno di un blocco di magari averne un altro. Quindi per esempio qui abbiamo questo for teacher in teachers, se ricordate. Ecco, se questo invece di for teacher in teachers fosse stato un blocco, fosse stato per ogni blog post che abbiamo su sito, stampa il blog post con le varie proprietà, il titolo, l'immagine, la data, eccetera, 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 qui ci potrebbe essere invece di un li un altro blocco, che rappresenta il blog post. E potrebbe esserci eventualmente un altro template figlio che va solo a riempire i blocchi. Quindi questo dà modularità a questi template e i blocchi sono ovviamente anche utili per modalità se avete un qualcosa che dovete ripetere con la stessa struttura in pagine diverse. Per cui se il post del blog, come titolo, immagine, data e contenuto, appare sull'home page, ma appare anche nella pagina di tutti i post, ma appare anche nella pagina dei post del 2022, ed è la stessa struttura, quello stesso blocco può essere ovviamente riutilizzato per tutti e tre, invece di andare a riscrivere tre volte lo stesso codice HTML. Poi è anche possibile, dicevamo l'altra volta, renderizzare il contenuto del blocco padre all'interno del blocco figlio chiamando super. Allora, nel nostro esempio semplice dell'altra volta non ce n'è bisogno, perché il figlio non deve andare a modificare niente del padre, deve solo prendere tutto quello che c'è e riempire selettivamente dei blocchi, ma ci può essere il caso in cui io voglio, per esempio, aggiungere qualcosa al blocco, al blocco intero, quindi non prenderlo, ma in un certo senso ridefinirlo. Allora, vedete la differenza tra questo esempio e quello che viene dopo. In questo esempio ne abbiamo due blocchi, uno che si chiama titolo e uno che si chiama contenuto, e noi andiamo a riempire il blocco titolo e il blocco contenuto. Una volta. Fine. E il nostro contenuto rimpiazza interamente il contenuto del blocco titolo e del blocco contenuto, che in questo caso è vuoto, non ha contenuto. Quindi rimpiazziamo il vuoto, che è il comportamento normale, il comportamento ovvio. Andiamo a inserire gli elementi personalizzati nello spazio che gli abbiamo riservato. Qui vedete, ignoriamo un attimo la riga super, qui vedete cosa si vuole fare. Noi abbiamo lo stesso head di prima con uno style sheet e lo stesso titolo, ma noi qui non vogliamo solo, qui noi vogliamo aggiungere un foglio di stile in più per quella pagina. Ora, se noi non avessimo, se ne facessimo esattamente come prima e non avessimo questa riga, non avessimo questo super, cosa succederebbe qui? Succederebbe che l'intero contenuto del blocco head verrebbe rimpiazzato da questa riga. Che non è quello che vogliamo, perché noi vogliamo mantenere sia l'altro foglio di stile, sia il titolo. Allora, cosa ci permette di fare questo super? Questo super ci permette di recuperare queste informazioni e invece di sovrascriverle, copiarle in un certo senso, recuperarle qui all'interno. Quindi è come se noi scrivessimo in questo head queste prime due righe esattamente come sono e poi aggiungessimo la terza riga, che è il foglio di stile in più. Quindi questo super ci permette di recuperare le informazioni dal blocco che va a essere sovrascritto prima di sovrascriverlo interamente. E quindi ereditiamo in un certo senso le informazioni in un blocco e le aggiungiamo altre informazioni al bisogno. In questo caso è un foglio di stile. Questo non è sempre un qualcosa che serve. Nella maggior parte dei casi questo è il modo comune di fare le cose. Quindi abbiamo dei blocchi vuoti e andiamo a riempirli. Però, per esempio, sul head può capitare che uno deve aggiungere un foglio di stile solo per quella pagina. E allora ha senso fare questo. Oppure se uno avesse una sidebar laterale che è sempre uguale tranne che in una pagina in cui succede qualcosa, tranne che per un'informazione. Allora in quel caso uno può usare super per ereditare l'intera sidebar, così come è definita nella pagina padre, e poi aggiungere il pezzo che serve invece di cancellare tutto e rimpiazzare col pezzo nuovo. Quindi questo è un modo un pochino più, diciamo così, sofisticato di avere l'ereditarietà. Che non è solo per rimpiazzare, ma aiuta anche a recuperare le informazioni dal padre verso il figlio. E ovviamente il figlio a sua volta può essere il padre, come dicevo prima, di un altro template che è eredita da lui e va a personalizzare altro. Quindi se qui per esempio definissimo un nuovo blocco, se qui per esempio, come dicevo, definissimo un nuovo blocco vuoto, poi qualcuno potrebbe stendere about e andare a riempire solo quel blocco lì. E quindi si farebbe una catena di ereditarietà tra template. E questi sono i template. Queste sono le cose principali sui template di Flask, in generale. Domande? Anche in base al laboratorio che avete fatto? Tutto chiarissimo. Bene. Allora, questo chiude i template. Se vogliamo vedere, ecco, possiamo vedere prima di passare a questo, a questa parte, a questa parte nuova, possiamo vedere, io avevo una soluzione di questo, quindi fatemi non in app, in template. about, base e index. Lo mettiamo qui dove era il nostro vecchio template, questo è l'esercizio dell'altra volta, giusto per vedere cosa succede rispetto a quello che c'è nelle slide, così avete anche il codice, non solo le... Ah, sì, bisogna anche cambiare il colore. Quindi voi vedete che adesso i template, come nelle slide, abbiamo un template base che ha esattamente quei contenuti, possiamo avere un template index che estende il template base e aggiunge le informazioni, e la stessa cosa per il template about, che è identico a quello dell'altra volta, ma aggiunge le informazioni che ci servono. E notate che Visa Studio Code tratta tutte queste estensioni del template come testo. Quindi non vi offre nessun aiuto nel scrivere queste cose, a differenza dell'HTML, a differenza del Python. Quindi questo, perché non ha un supporto specifico per i template Jinja. Magari ci sarà un plugin, ma nativamente non ce l'ha. A differenza dell'HTML, per cui ricolora, per esempio, i vari tag. O è di Python, per cui vi autocompleta, vi suggerisce il metodo della funzione da utilizzare. Non ce l'ha per i template. Però se noi questo lo lanciamo, come Flask meno meno debug run. Eh sì. Dopo aver attivato il virtual environment, anzi creato anche il virtual environment in questo caso. Perché questo è il progetto dell'altra volta preso da Git. quindi punto slash punto venv bin no venv bin activate e a questo punto pip install Flask e Flask meno meno debug run. Ok. E a questo punto se noi andiamo su localhost alla porta 5000 vedete che comunque la pagina viene renderizzata esattamente come prima quindi non notiamo la differenza tra mancano i docenti perché non hanno aggiornato il file Python probabilmente l'avamo solo visto nelle slide no c'è ah l'abbiamo chiamato scusate l'abbiamo chiamato docenti in aula mentre qui si chiama teachers ok e se voi fate ispezione elemento vedete che comunque c'è una pagina HTML completa non c'è nessuna traccia del template proprio perché Viginia prende il template lo compila crea la versione HTML e fornisce al browser la versione HTML perché appunto il browser capisce solo HTML CSS JavaScript non capirebbe Python non capirebbe nessun template in Jinja o cose particolari questo ovviamente funziona come vi dicevo l'altra volta se voi andate a vedere i template fatti in questo modo come anteprima di pagina HTML prima che vengono forniti da Flask al browser ma come abbiamo fatto fino alla settimana scorsa quindi facendo doppio clic sul file HTML vedete che l'HTML continua a essere formattato più o meno correttamente ma tutti quegli altri tutte le estensioni tutti i template tutti i comandi di Jinja vengono interpretati come testo quindi le pagine HTML iniziano a essere rotte perché ovviamente qui manca tutta l'intestazione qui manca la parte finale ci sono questi unblock e stessa cosa per il template base che in realtà non mostra niente se non i block content e il block title come title della pagina si è aperto con un browser però internamente ha la parte HTML ha LED ha i meta ha tutto quello che deve essere solo che avendolo diviso su più pagine per l'eretarietà aprendoli singolarmente smettono di funzionare in maniera corretta però una volta serviti dal server tornano a funzionare come ci aspettiamo allora dicevo questo è sui template facciamo un passo di lato torniamo a parlare delle root quindi delle root che mettevamo nel file python e lasciamo perdere i template che abbiamo visto come sono quindi per capirci torniamo a parlare di queste o di questa in ogni caso allora proviamo a solo ricordarci che cosa facevano queste due righe la riga 8 cosa ci diceva? quando siamo in un po' di si si e questo come si chiama? questo questa intera riga come si chiama? questo è un decoratore o decorator si in inglese è un decoratore perché ha questa chiocciola all'inizio e si applica la funzione dopo e ci dice che appunto quando il server riceve una richiesta una richiesta di che tipo? una get alla root allora deve eseguire questa funzione quindi questa funzione index è collegata a questa root ed esegue il contenuto di questa funzione il contenuto di questa funzione altro non è che prendo un template e lo renderizzo e notate che come vi dicevo non abbiamo cambiato l'html non abbiamo cambiato il file python per il template quindi noi qui stiamo renderizzando il template figlio non c'è da nessuna parte il rendering del template padre noi renderizziamo il template figlio e poi il template figlio che è eredita dal template padre quindi qui non cambia niente qui continuiamo a renderizzare esattamente la pagina che vorremmo renderizzare poi questa pagina viene costruita in qualche modo dall'engine di templating però qui da nessuna parte avremo mai direi a meno che non ci sia bisogno di visualizzarlo il template base che è un template tipicamente vuoto quindi tipicamente si fa un template base o chiamato in maniera simile che è la struttura della pagina html comune a molte pagine e poi si fanno le varie pagine singolarmente inclusa alla home page come nel nostro caso quindi adesso andiamo di nuovo a parlare di queste route queste route che caratteristiche hanno in questo momento che non sono e quindi se non sono dinamiche sono cosa vuol dire che sono statiche che non possono cambiare ma in che senso non possono cambiare in base in base all'interazione sì e perché questo e questo sono route statiche perché about slash about html o slash about o qualunque cosa scriviate qui così è una route statica e non dinamica quindi perché quell'indirizzo in questo caso è statico perché ha scritto in mano qualcuno deve scriverlo quindi perché non c'è per esempio una variabile che cambia allora quale potrebbe essere l'esempio di una route con una variabile che cambia sì nel suo senso andare magari a scomodare i video un post del blog ha un titolo ha un identificativo che è diverso da un altro allora se noi avessimo 10 video o 10 post del blog da visualizzare su pagine singole adesso cosa dovremmo fare? 10 route route diverse una route ha slash blog slash 1 slash 2 slash 3 e avanti così quindi se ne aggiungiamo un undicesima dovremmo andare qui stoppare il server andare a modificare il file aggiungere 12 o 11 e avanti così e far ripartire tutto questo capite che è un po' scomodo in molti casi con questo tipo di pagine non c'è un problema perché sono statiche non è che esiste un about versione 1 versione 2 in base a cosa succede ma per i contenuti video per i contenuti molteplici dello stesso tipo i video i blog i post di un social network eccetera eccetera le immagini anche se lo fossero una serie di immagini da visualizzare io carico una nuova immagine avrò un titolo un identificativo diverso mi piacerebbe tanto avere una route che visualizza le immagini non importa se è l'immagine 1 o l'immagine 2 o l'immagine 5 o il video o quello che è quindi una pagina dice ok questa è la pagina del post del blog questa è la pagina del video che ha un titolo che ha il contenuto visivo che ha un autore eccetera ma è sempre la stessa pagina cambia il contenuto e queste sono le route dinamiche le route dinamiche possono includere una variabile che in questo caso si chiama parametro semplicemente noi potremmo avere un parametro all'interno della route che abbiamo definito esattamente come prima quindi questo è sempre un decorator che sempre si applica alla funzione che viene dopo e questo show profile è sempre il nome della pagina tutto come per ora ma quello che cambia è che possiamo definire uno o più parametri in questo caso uno nella route definendoli come minore nome del parametro maggiore come fosse una variabile e poi ci ritroviamo quello stesso parametro come argomento della funzione e quindi a quel punto possiamo anche utilizzarlo all'interno della funzione quindi se noi scriviamo questo nella route poi dobbiamo scrivere questo nel parametro della funzione e flask ovviamente si preoccuperà di fare il collegamento tra i due quindi se voi nel browser scriverete 127 0 0 1 users slash Luigi dr questa variabile questo parametro questo parametro verrà in quel momento inizializzato con un username verrà fatto il match della stringa per cui slash users slash Luigi slash user slash Alberto eccetera saranno tutte dello stesso tipo perché tutti iniziano con slash users e hanno poi una parola dopo e non c'è un'altra route in questo esempio perché c'è solo questa che può fare il match e quindi questo valore che viene passato nel browser come indirizzo Luigi, Alberto eccetera sarà poi disponibile come questo parametro della funzione quindi si potrà utilizzare nel corpo della funzione per fare qualunque cosa vi serva a quel parametro in questo caso per visualizzare lo schermo ma uno potrebbe anche usare quel parametro per chiedere un database se è quell'utente e le informazioni su quell'utente in questo caso questo potrebbe essere una una pagina profilo in cui c'è il nome quindi dall'username univoco recupero il nome l'indirizzo l'età il lavoro tutte le informazioni che mi possono servire in una pagina profilo quindi questa è dinamica perché aggiungo un parametro quindi indipendentemente da quale sia il parametro se c'è una route che matcha su quella descrizione viene chiamata la funzione corrispondente quindi non è più un match uno a uno come la prima per cui ho about index e quelli sono univocamente about index qui aggiungo una variabilità in cui vado a dire ok tutto quello che inizia così e che dopo ha un parametro va a finire qui viene intercettata da questo metodo e viene manipolata da questo metodo poi dopodiché io potrei avere slash users list slash 5 quello però è un altro route perché è più complessa rispetto a questa questi parametri sono considerati sempre come stringhe non come numeri ma come stringhe quindi anche se qui ci fosse scritto 1 o 10 quel 10 non sarebbe un 10 numero ma sarebbe un 10 stringa quindi se noi avessimo l'identificativo mettiamoci in un caso di nuovo reale realistico abbiamo quello 10 come identificativo di un utente o di un blog o eccetera questo blog è memorizzato in un database noi vorremmo magari dire al database fare una query del tipo mettiamo a prova le vostre competenze di base dati se avessi una tabella post in cui o users in cui ho una colonna id che contiene numeri da 1 a 100 e volessi recuperare quello 10 scriverei select id è uguale a 10 ok quindi select id from users where id è uguale a 10 e a quel punto ci tornerebbero le informazioni associate a quelle utenti ora nel caso di un database per esempio quel 10 essendo un id sarà memorizzato in maniera numerica tipicamente auspicabilmente se è un numero allora questo però ce lo ritorna come stringa allora in base alle vostre conoscenze di python come facciamo passare da una stringa a un intero se la stringa contiene un intero ovviamente come? che il cast sia la risposta giusta va bene ma in pratica cosa scriviamo in python per fare un cast da stringa intero int aperta parentesi la stringa quindi facciamo un cast e in realtà quell'int che cos'è? cos'è quell'int? quell'int è una funzione ma in realtà chi è che fa programmazione oggetti? o chi ha fatto programmazione oggetti? però qualcuno l'ha già fatto quindi quell'int che cosa potrebbe essere? è un costruttore è un costruttore dell'oggetto primitivo int in python è una funzione che prende un parametro e costruisce l'equivalente se può e se non può da errore o fallisce in qualche modo questo è un modo quindi io qui ho io qui ho la stringa che però è un numero e quindi qui nel corpo della funzione se ho bisogno del dell'intero scriverò qualcosa uguale int di username non fatemi scrivere tutto int della variabile e avrò se quello è davvero un numero la versione corretta e dovrò magari controllare se quello è un numero eccetera per essere sicuro di non convertire Luigi intero perché ovviamente non mi dà un risultato che è quello che voglio questo è un modo un modo manuale Flask ci dà un altro modo più sicuro in un certo senso nel senso che se noi siamo sicuri che quelli di quello username quel parametro è e non può essere altro che un intero allora glielo andiamo a dire nella route direttamente e a questo punto questo id argomento all'interno di questa funzione sarà un intero sarà una variabile che contiene un numero intero e questo e quindi se scriviamo minore nome del parametro maggiore sarà una stringa se scriviamo minore qualcosa due punti parametro sarà quel qualcosa due punti Flask si aspetterà che nella url ci sia un qualcosa scritto che possa essere riconosciuto di quel tipo ovviamente altrimenti non c'è il match di nuovo quindi se noi scriviamo così ma poi scriviamo slash post slash Luigi ovviamente Luigi non è un intero e quindi questa funzione non viene eseguita e quali possono essere i tipi di parametri che si possono scrivere lì si può scrivere intero che è il caso più comune insieme a stringa rifaccio stringa il caso più comune e infatti è quello di default quando il parametro manca il secondo caso più comune è l'intero che è int e c'è anche float che è abbastanza magari non tanto comune vedere un post slash slash 5.29 però c'è se per caso servisse e c'è anche un tipo di parametro che si chiama puff che è una stringa che può essere però un percorso tipo un percorso su disco quindi con gli slash quindi tutto viene riconosciuto come un puff che anche questo non è molto comune ma flasco lo supporta sicuramente i più comuni sono ripeto il default che è quando manca quindi una stringa è l'intero come facciamo a generare una url quando abbiamo una route con parametro noi sappiamo come generare una url quando non abbiamo il parametro con url4 c'è la versione di url4 con il parametro che è essenzialmente lo stesso url4 di prima quindi se noi vogliamo fare un url4 per pagina quindi show profile esattamente come facciamo prima per le bout e l'index con le route statiche ma accettiamo anche un secondo parametro che username uguale e il parametro da inserire come username questo genera un una url simile a quella che ci aspettiamo quindi passiamo un secondo parametro che è il parametro che vogliamo poi venga riconosciuto sopra o dalla route quindi questi ovviamente sono nello stesso server ma sono staccati anzi la url4 sarà in un template probabilmente che non ha necessariamente conoscenze di cosa succede nel file python se non per il nome del della pagina che deve visualizzare a cui deve linkare quindi se c'è una pagina che deve linkare posso scrivere showprofile virgola parametro uguale il contenuto che andrà messo in quel parametro per cui lui cosa farà guarderà showprofile com'è composto e quindi scriverà slash users perché è la route corrispondente a showprofile slash e poi rimpiazzerà al parametro username lui gdr questo vuol dire che se avessi più parametri posso sempre in questo modo aggiungere virgola e andare a inserire gli altri parametri potrei anche avere una route che è slash users slash parametro slash un altro parametro e a quel punto mi troverei entrambi i parametri nel corpo della funzione e dovrei se faccio una url andare a inserire gli altri parametri è un esempio di una route che potrebbe avere due parametri di una url che potrebbe avere due parametri pensate al politecnico agli studenti ai corsi potrebbe esserci già potrebbe essere un'indicazione potrebbe essere username e password ma non sarà mai username e password perché non mettiamo username e password in una url scritta visibile a tutti ovviamente però si potrebbe in un mondo fantascientifico potrebbe essere username e password ma qualcosa di un pochino più nome e cognome li metterei come un unico parametro username cioè come scriviamo come scriviamo localhost slash poi cosa scriviamo e allora quanto serve il primo parametro anche lì c'è un parametro solo di os è lo stesso è la matricola comunque matricola che poi posso iniziare poi tu nel nel corpo della funzione dirai se inizio con s allora è uno studente e faccio delle cose se inizio con d allora è uno docente faccio delle cose però oppure posso scrivere se voglio fare due rute diverse posso scrivere qui s è il parametro oppure d è il parametro per esempio no? o s più più no senza più perché dovrebbe essere così però no proprio una url pensate a una url come potrebbe essere composta una url con due parametri diversi se noi scriviamo per esempio corsi che rappresenta l'elenco di tutti i corsi offerti al Politecnico che parametro potrebbe venire dopo? sì o il codice allora dipende qui si aprirebbe un vaso di Pandora ma dipende come strutturiamo la url no? se noi facciamo strutturare una url in modo che ci siano le informazioni univoche allora qui non metterei AW che è la sigla che ci siamo inventati noi ma metterei qual è l'informazione univoca del corso per tutto il Politecnico il codice qualunque esso sia no? quindi boh 0 1 x x x e questo è un parametro che è il codice che altro parametro potrei aggiungere dopo in questa url? quindi io qui ho tutti i corsi ho selezionato questo corso potrei scrivere scusa? ho materiale anche però a me stavo scrivendo su questo quindi fammelo scrivere studenti un corso degli studenti iscritti se no è spento il corso e quindi che altro parametro potrei mettere dopo? la lingua no qui dopo studenti la lingua la matricola dello studente allora questa potrebbe essere una url che mi dice dammi tutti i corsi solo la parte corsi seleziona il corso specifico dammi tutti gli studenti di quel corso e poi dammi l'informazione sul singolo studente che è nella lista degli studenti di quel corso specifico quindi se uno volesse sapere volesse lavorare a quei corsi con gli studenti ovviamente un corso ha degli studenti iscritti e se volesse sapere il voto di esame di uno studente qui dentro in questa matricola ci sarebbe nome cognome voto se ha superato l'esame quando l'ha frequentato qual è l'anno di iscrizione per quel corso la prima volta frequenta per la seconda volta eccetera questo potrebbe essere una url che mi dà queste informazioni o viceversa potrei avere una url che è studenti quindi tutti gli studenti matricola tutti i corsi di quello studente il piano il carico didattico o il piano carriera dipende e a quel punto magari tramite l'identificativo del corso sapere il programma del corso però a quel punto è il corso che lo studente singolo nel carico didattico o nel piano carriera che dir si voglia quindi questo è un modo per avere più url in maniera ovviamente ragionata in modo che la url se vogliamo ci ci faccia capire a chiunque la legge più o meno che cosa vogliamo fare di cosa stiamo parlando stiamo parlando di corsi e stiamo parlando di studenti che sono iscritti a quel corso diamo una relazione a quella poi può anche essere slash a slash parametro slash b slash parametro due però ovviamente se è una url che aiuta a essere comprensiva comprensibile è sicuramente meglio ecco la url for accetta anche un secondo parametro esattamente come prima quindi voi potete sempre scrivere un secondo parametro nella url for quello che cambia è che se la route è dinamica allora verrà generato in maniera corrispondente a quello che volete quindi slash user slash username se non lo è viene generato come un parametro della get allora qui in questo modo io magari metterei nome e cognome per esempio quindi in questo caso about è una pagina statica e quindi dato che non ha un parametro la sua funzione non ha nessun tipo di parametro e neanche lui lei ha nessun parametro questa route non ha nessun parametro scrivendo qualunque cosa uguale a qualunque altra cosa viene memorizzata come viene presentata stampata come parametro della get quindi punto di domanda il nome della variabile il nome del parametro che abbiamo dato sopra uguale il contenuto di quella variabile e se noi avessimo più parametri come apparirebbe questa url? se avete mai visto qualche url potreste saperlo se avessi virgola qualcos'altro come parametro qui come apparirebbe questa url qui sotto? fino qui in questo modo e il secondo parametro come viene agganciato al primo? con l'e-commerciale con l'e-commerciale quindi c'è l'e-commerciale e poi secondo parametro uguale se c'è un terzo parametro e commerciale eccetera 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 questo è un parametro questo è un modo per la get di passare informazioni tra pagine ed è il motivo per cui non si usa la get per passare informazioni ma si usa la post che non inserisce tutte le informazioni sulla url ma le rende invisibili a chi lo utilizza ok? per ultimo quindi queste sono le route dinamiche che ci servono per poi aggiungere un po' di dinamicità non cambiano ripeto quello che il resto facciamo in python per cui se vogliamo prendere la lista dei docenti avere la pagina per ogni docente avremo le informazioni da qualche parte e semplicemente genereremo andiamo a recuperare il docente giusto e Flask abbiamo detto l'altra volta che però è anche estendibile quindi di base fa queste cose che abbiamo detto finora in realtà ne fa anche altre che vedremo la settimana prossima ma per andare avanti ma queste sono le cose proprio di base che Flask fa ma abbiamo anche detto che Flask è estendibile quindi è un micro framework perché fa poche cose fatte bene diciamo così ma non fa tutto a differenza se ricordate di altri framework come Django che in due righe in un'istruzione vi genera vi dicevo l'altra volta un'applicazione web con login registrazione utenti parte da amministrazione quindi l'utente è loggato e parte non da amministrazione più le pagine per gestire gli utenti cancellare le persone loggate eccetera in tre righe scritte in linee di comando vi genera tutto lei Flask non lo fa perché è un micro framework quello invece è un full stack framework perché fa qualunque cosa e quello è poco estendibile perché fa già una serie di cose e se non vi piace come fa le cose la risposta tipicamente è è un vostro problema non è un loro perché cambiate framework può essere l'altra risposta invece Flask essendo un micro frame fa poche cose e se volete potete o scrivere voi le cose che mancano oppure vedere se c'è qualcun altro che l'ha già fatte per cui potete avere estensioni per cui Flask supporta questa modalità di avere estensioni che si agganciano a Flask e si possono poi utilizzare all'interno di Flask per fare cose in più le estensioni sono quasi tutte elencate in questa pagina e queste sono alcune estensioni utili non tutte non sono tutte le estensioni sono alcune estensioni utili alcune di queste le useremo nel resto del corso altre no però queste sono estensioni utili e vediamole velocemente una alla volta dall'ultima Flask Mail Flask Mail aggiunge la capacità di mandare mail a un'applicazione Flask ma avete un sito web volete anche mandare delle mail con questa estensione vi prepara tutto quello che vi serve per con un po' di configurazione ovviamente per mandare mail all'interno dalla vostra applicazione web quindi il server Flask potrà anche mandare non ricevere ma mandare email quindi questo si può anche fare a mano se uno sa come si fa oppure si può usare questa estensione che vi facilita il lavoro di mandare mail saltiamo restful è un'estensione che aiuta a costruire delle url delle route fatte in un certo modo con una certa filosofia diciamo così con un certo modo di scrivere le url e con un certo modo di utilizzare le chiamate http per quelle url e questo pattern questa filosofia diciamo così si chiama rest e quindi restful di conseguenza sono le le url e le route che voi definite sarebbero restful perché rispettano questo modo di lavorare che unisce che metodo http uso con quale tipo di struttura di url e poi tutto il resto non cambia però vi aiuta a costruirle e ve le fa costruire in maniera corretta secondo questo pattern e questa la useremo queste due che abbiamo detto non le useremo durante il corso ma questa la useremo e quando settimana prossima iniziamo a parlare delle sessioni che è un modo per scambiare per mantenere informazioni tra più pagine perché Flask ha un meccanismo di sessioni ma di sessioni gestita a livello di browser quindi vuol dire che ogni persona nel proprio browser ha questo concetto di sessione come informazioni condivisibili tra più pagine web dello stesso sito che funziona ma non è la cosa né più performante né più sicura in generale e quindi è meglio avere delle sessioni lato server quindi invece di dire che ogni computer ha questo concetto di sessione per avere informazioni condivise tra pagine e il server che ha tutte le sessioni di tutti i computer in quel momento tutti i browser in quel momento diciamo collegati con lui questo lo useremo come estensione non andremo a implementarci a mano le sessioni lato server e a un certo punto useremo anche Flask login che dovrebbe essere ovvio cosa fa giusto? vi da tutta una serie di meccanismi per fare per gestire il login o meglio per gestire gli utenti loggati le sessioni degli utenti loggati e Flask login usa può usare Flask session quindi un'estensione può usarne un'altra se vuole in questo caso lo fa e Bootstrap Flask cosa farà Bootstrap Flask al netto che il fatto che ci sia scritto permette di usare Bootstrap nell'applicazione ma voi lo già usate Bootstrap nell'applicazione no? quindi cosa farà mai questo? vi aiuta più facilmente? può darsi e vi mette diciamo così prende dei pezzi di Bootstrap e li mette dentro dei template li mette dentro delle funzioni tipo url4 quindi per generare una navbar ci potrebbe essere la funzione navbar qualcosa quindi uno scrive navbar qualcosa aperto e chiusa parentesi e lui genera l'html corrispondente alla navbar di Bootstrap quindi è un facilitatore in questo senso Flask SQL Alchemy e Flask WTF che non significa quello che potete avere in mente voi SQL Alchemy è un'integrazione con SQL Alchemy che è un meccanismo per lavorare quei database non scrivendo query direttamente quindi ci sono questo mapping relazionale che esiste in tutti i linguaggi di programmazione per cui moderni per cui quello che si fa spesso che vi nasconde questi sistemi vi trasformano le query in oggetti di programmazione quindi invece di scrivere select id from cosa abbiamo detto prima post where id uguale 10 scrivereste qualcosa SQL Alchemy punto select aperta parentesi 10 virgola post chiusa parentesi e lui genera la query corretta rispetto al database che ha sotto e vi restituisce il tutto non come stringa o come elenco di tabelle ma già come un oggetto python da utilizzare quindi in quel caso come un oggetto python che rappresenterebbe post questi sono object relational mapping che esistono per tutti i database e c'è un'estensione in flask per utilizzare questi meccanismi noi partiremo con le query a mano poi se abbiamo tempo ci aggiungeremo anche questo se no rimarremo con le query a mano tanto non facciamo query particolarmente complicate e l'ultimo invece è un'altra cosa che inizieremo a parlare la settimana prossima è un'integrazione con per creare dei form dove vedremo i form html e come si usano in flask e questi sono facilitatori per la creazione la validazione e la ricreazione di form dove i form sono giusto per metterci tutti allo stesso livello un esempio di form un modo per chiedere informazioni un modo per chiedere fronte ad utenti tipo un esempio un esempio concreto no si e poi premio il bottone invia oppure un esempio che praticamente usate tutti i giorni il login il login è un form è un form di login in cui mettete username e password e poi mettete login quello è un form è un form piccolo corto però sempre un form quindi qualunque cosa che abbia dei campi di input o di selezioni e poi si invii è un form noi non l'abbiamo ancora visto in html perché per fare i form ci serve il server che è il posto a cui invii le cose e quindi adesso che abbiamo un po' di flasca vedremo anche i form lato html con la loro validazione e quant'altro e questo è qualcosa che aiuta a fare form più belli diciamo questa estensione quindi sono estensioni che sono utili perché aggiungono funzionalità vere e proprie tipo flask login e flask session e altri che sono possono essere utili tipo questi tre perché quindi flask wtf sicual alchemy e bootstrap perché magari semplificano o aggiungono capacità alle cose che già potremmo fare in realtà a mano ma ce ne rendono solo levemente più facili e per esempio e poi chiudiamo per oggi flask bootstrap fatemi fare un esempio di estensione come funziona prendendo flask bootstrap visto che conoscete già bootstrap e ovviamente è un pacchetto quindi si installa con pip è un pacchetto è un pacchetto bisogna installare la parte quindi pip install bootstrap meno flask come abbiamo installato flask se siete nel virtual environment nel virtual environment se lo installate nel sistema operativo sarà disponibile per tutti e contiene sia bootstrap 4 che bootstrap 5 quindi contiene due versioni di bootstrap questo pacchetto e noi stiamo usando bootstrap 5 appunto qualcosa quindi c'è anche la versione simile che stiamo usando ha una documentazione e bisogna importarlo perché è un pacchetto è python quindi bisogna importarlo come importeremmo una libreria quindi in maniera analoga flow from flask bootstrap import bootstrap 5 se vogliamo usare bootstrap 5 o import bootstrap 4 se vogliamo usare bootstrap 4 puoi creare l'oggetto perché l'oggetto ci renderà a disposizione bootstrap nei template negli altri file e poi per esempio per caricare il css invece di incollare quella lunga riga style eccetera che abbiamo preso dal sito di bootstrap uno potrebbe scrivere in stile flask doppia parentesi graffa bootstrap che è l'oggetto che abbiamo importato appunto load css aperto e chiuso a parentesi chiuse le doppie graffe e lui importa la versione corretta aggiornata dello stesso link che avete fatto copio incolla che abbiamo fatto copio incolla finora stessa cosa per il javascript e questo suppone che voi abbiate un base template perché usa l'editarietà tra i template non vi fornisce un base template all'interno del pacchetto ma vi dice per esempio potreste partire da questo linkato a quella pagina che è già un base template per per flask che utilizza bootstrap 5 quindi copio incolla di quello che ho scritto lì non lo fornisce ma fornisce un esempio e a quel punto si possono utilizzare o bootstrap normalmente come avete fatto finora oppure mette a disposizione alcuni blocchi per esempio se questo fosse un template questi sono i blocchi per renderizzare un item una voce all'interno della navbar quindi la navbar si definisce con le classi bootstrap come avete fatto finora però ogni item potrebbe essere renderizzato in questo modo e se index explore e about sono pagine definite come funzioni in python questo crea anche il link corretto tra la voce nella navbar e la route corrispondente nel file app.python o comunque la vogliamo chiamare dovrebbe dovrebbe avere anche un modalità active bisogna leggere e dipende dipende come l'hanno fatto adesso bisogna andare adesso questo è un esempio semplice bisogna andare a leggere la documentazione un po' più accuratamente e nella navitem active è l'unica altra classe che gli manca in realtà l'unica cosa che fa una navbar è avere active e non active quindi in teoria sì mi sentirei di dire che spero di sì non ho controllato ma spero di sì però magari ci sono certi elementi bootstrap molto più complicati con molto più classi per cui questo magari supporta le cose più comuni e se vuoi le cose più particolari eccetera non puoi usare questo ma devi usare la stringa html dato che questo è all'interno di un file che diventa html comunque non c'è problema a mischiare le due cose e tra l'altro c'è anche se volete qui c'è un link con tutti i blocchi che esistono per questo bootstrap flask che non sono tantissimi in realtà non copre tantissimo di bootstrap copre la navbar e altre 4-5 cose e poi qui c'è anche una demo che l'altro giorno funzionava al 50% quindi adesso non so se alcune cose funzionavano altre da un errore come demo e che è fornita da quelli che hanno fatto bootstrap flask e a proposito di un'estensione che usa altre estensioni per esempio bootstrap flask funziona bene con entrambe quelle due estensioni mentre alcune estensioni potrebbero dirti io con quest'altra estensione sono in conflitto e non riesco a funzionare correttamente in questo caso loro ti dicono se usate questo per i form e quell'altro per SQLAlchemy che sono le due estensioni più usate per i database e per i form con flask io ti garantisco che comunque continua a funzionare bene soprattutto per i form che ovviamente vanno renderizzati in formato analogo a quello che farebbe bootstrap quindi ovviamente c'è molto overlap tra le due cose quindi questa è un'altra estensione che ovviamente usa o può utilizzare se le trova altre due estensioni a disposizione questa se volete provare a utilizzarla al posto del bootstrap a mano o in aggiunta in parte al posto del bootstrap a mano è una cosa che si può fare noi magari nei prossimi esempi proveremo a utilizzarla giusto per vedere anche le differenze rispetto al bootstrap fatto a mano questo chiude la parte base di flask lunedì continueremo a parlare di flask faremo anche un esercizio magari dedichiamo un'ora e mezza a un esercizio con calma che non abbiamo fatto finora su flask e andiamo avanti con gli aspetti un pochino più avanzati di flask tipo le sessioni tipo i form che riguardano anche l'html eccetera per pian piano costruire un'applicazione web un po' più complicata rispetto a due pagine da leggere se avete domande io sono ancora qui per altri 5-10 minuti altrimenti buona continuazione di settimana e buon fine settimana e ci vediamo lunedì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti